Quante volte abbiamo pensato l'Unione Europea così com'è non funziona, ma Bruxelles non fa niente, o Bruxelles fa troppo. Ecco, oggi con la conferenza sul futuro dell'Unione Europea abbiamo l'opportunità di cambiare come funziona l'Unione Europea. Forse. Dico forse perché per come è stata organizzata questa conferenza ci troveremo, forse, di fronte a un enorme buco nell'acqua. Ma cos'è questa conferenza? Allora nasce come un'idea del presidente francese Emmanuel Macron nel 2019 e dovrebbe essere l'evento principale mai capitato prima per cambiare dal profondo il funzionamento dell'intera Unione Europea. Cosa fa, cosa non fa, come lo fa, quando lo fa e tutto il resto. In pratica nel corso di un anno, tramite eventi, seminari, convegni e forum anche su internet, l'obiettivo è quello di raccogliere idee, critiche, pareri per appunto cambiare il funzionamento dell'Unione Europea e dare una risposta a tutte quelle domande ed esigenze che oggi restano purtroppo inascoltate. Tecnicamente la conferenza sul futuro dell'Unione Europea è fatta da un tot di europarlamentari, dei rappresentanti di altre istituzioni europee, delle istituzioni nazionali e anche dei cittadini. Ed è proprio ai cittadini che viene chiesto il parere. Ognuno di noi può, tramite il link che ho messo in descrizione, partecipare a dei forum digitali esprimendo il proprio parere sulle questioni più disparate, il clima, l'amministrazione, l'immigrazione, la sicurezza e tanto altro, criticando quello che non va oggi e proponendo delle soluzioni per il futuro. Poi ci sono eventi organizzati in tutto il territorio europeo e tanto altro. Insomma, sulla carta sembra una gran bella iniziativa, o perlomeno la prima volta che le istituzioni europee si aprono direttamente ai cittadini, chiedendo loro in prima persona un parere su come le cose potrebbero funzionare meglio. Ma allora perché potremmo trovarci di fronte a un enorme fallimento? Il fatto che oggi i principali problemi dell'Unione Europea, o perlomeno le accuse principali che vengono fatte, rivolte a Bruxelles, sono dovute al fatto che l'Unione Europea non ha abbastanza competenze in una determinata materia. Vi faccio un esempio su tutti, l'immigrazione. Quante volte in Italia abbiamo detto che Bruxelles non fa niente per aiutare l'Italia, che da sola deve far fronte a dei flussi migratori enormi. Ebbene, sull'immigrazione l'Unione Europea, intesa come le istituzioni europee, non possono obbligare gli altri paesi membri a prendere una parte dei migranti che arrivano in Italia, ma può solo proporlo. Il problema quindi viene dalla mancanza di solidarietà degli altri governi nazionali sovrani, diremo oggi, e dall'impotenza delle istituzioni europee di obbligarli a fare qualcosa, proprio perché appunto non ne ha le competenze. E da lì veniamo al problema principale di questa conferenza. I capi di Stato e di governo dei 27 paesi membri europei hanno voluto scrivere nero su bianco che questa conferenza sul futuro dell'Unione Europea non potrà cambiare i trattati dell'Unione Europea. In questi trattati c'è scritto cosa l'Unione Europea può fare e cosa invece può soltanto proporre, ovvero quali sono le competenze che spettano ai governi nazionali e quali all'Unione Europea. L'immigrazione, la protezione delle frontiere esterne, la sanità e tanto altro sono competenza dei governi nazionali. Quindi dire l'Unione Europea non fa niente per aiutare l'Italia sui migranti non ha sostanzialmente senso. Dovremmo dire all'Unione Europea non viene dato il potere di fare niente per aiutare l'Italia sui migranti. Ecco che i capi di Stato e di governo dei 27 paesi membri tramite le proprie ambasciate, i rappresentanti eccetera eccetera, hanno voluto già mettere il piede sul freno. Perché non si sentono pronti a cedere più poteri alle istituzioni europee? I governi nazionali non vogliono che vengano cambiati i trattati fondamentali dell'Unione Europea perché sostanzialmente non si sentono pronti a dare a Bruxelles, inteso come istituzioni comunitarie, più potere, ovvero a cedere sovranità. Preferiscono tenerla in tutte le materie che ho detto e in molte altre. Anche se poi abbiamo visto che molto spesso sono proprio i governi nazionali che ne pagano le conseguenze. Ma tanto poi danno sempre la colpa a Bruxelles e quindi ne escono puliti. Il Parlamento Europeo, a dire il vero, ha cercato di far sì che questa conferenza sul futuro dell'Unione Europea potesse cambiare, se ci fosse stato l'accordo, i trattati dell'Unione Europea. Chi a Bruxelles sono rappresentati all'interno del Consiglio dell'Unione Europea? Quando dico Consiglio dell'Unione Europea sostanzialmente dico i 27 paesi membri che vengono a Bruxelles all'interno di questa istituzione, mettono la divisa blu dell'Unione Europea, prendono le decisioni, se la tolgono e se ne vanno. Ma sono loro ad aver preso le decisioni. Quindi in questo caso se la conferenza sul futuro dell'Unione Europea non potrà cambiare alla radice i veri problemi dell'Unione Europea, non sarà perché l'UE non avrà voluto, ma perché i governi nazionali non lo hanno permesso. Insomma questa conferenza resta comunque un esercizio interessante alla quale vi invito a partecipare tramite il link che trovate in descrizione, ma temo purtroppo sia l'ennesima occasione persa, forse la più grave, che avremmo avuto veramente per cambiare l'Unione Europea. Però attenzione, se non ce la faremo neanche in questo caso dovremmo prendersi con i nostri governi nazionali e non con l'UE in senso generale.